Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film che è da poco uscito in streaming che è Chaos Walking, un film fantascientifico diretto da Doug Lehman con protagonisti Tom Holland, Daisy Ridley e Mads Mackensen. È un film di fantascienza e avventura ambientato in un futuro prossimo, un futuro distopico dove le donne non esistono più. Il film è tratto da un romanzo di fantascienza di Patrick Ness, tratto appunto dalla saga Chaos Walking, questo è l'adattamento del primo libro di una trilogia. Stavo dicendo appunto siamo in un prossimo futuro non ben datato, in quello che viene chiamato nuovo mondo, una terra fondamentalmente inesplorata dove si sono rifugiati alcuni esseri umani perché c'è stata una guerra tra gli esseri umani e gli alieni dove gli esseri umani hanno avuto la peggio e quindi hanno dovuto cercare una nuova terra dove andare a vivere. Le donne non ci sono più perché sono state colpite da un virus letale, quindi sono state estinte e gli uomini invece hanno ricevuto una specie di potere che in lingua originale si chiama The Noise, in italiano è il rumore, che permette loro di leggere nel pensiero delle altre persone senza la necessità di dover parlare e soprattutto vedere quello che pensano sotto forma anche di immagine. Il protagonista è appunto Tom Holland che interpreta il personaggio di Todd Hewitt che lui lo ripete a continuazione Todd Hewitt, Todd Hewitt, Todd Hewitt, Todd Hewitt alla nausea proprio perché lui non vuole farsi leggere nella mente e quindi continua a pensare solo il suo nome per non essere così letto nella mente. Lui vive una vita abbastanza normale in un contesto di una piccola cittadina dove i rapporti con le altre persone non sono dei migliori a partire con il sindaco che è interpretato appunto da Mads Mackensen e vive così alla giornata, si addestra fondamentalmente si allena, va a caccia e un giorno di questi andando a esplorare la foresta perché fondamentalmente questo nuovo mondo è totalmente incontaminato, è stato pochissimo esplorato, in una delle sue uscite trova un'astronave un'astronave all'interno della quale c'è una donna viola interpretata da Daisy Ridley. All'inizio il rapporto tra due sarà decisamente conflittuale per due motivi, uno perché Todd non aveva mai visto una donna e quindi non sa come comportarsi, due perché scopre che le donne in realtà sono in grado di leggere nel pensiero. Qua ci possiamo leggere che è una cosa che, provento di dire, è una capacità che le donne nella realtà sanno fare soprattutto nei confronti di noi uomini e quindi vive con questa difficoltà questo nuovo rapporto. oltre al fatto che anche le persone che vivono nel villaggio appena sentono la notizia fanno di tutto per catturarla perché appunto non è mai esistito, cioè o meglio, loro non hanno mai visto una donna. Qua parte fondamentalmente un'avventura molto d'azione, molto di fantascienza in cui i due imparano a conoscersi, imparano in un certo senso a capirsi e imparano che uno non è contro l'altro. Ma non c'è solo questo perché nell'esplorare questo mondo, questo nuovo mondo in realtà, si scoprirà anche altro sul pianeta, su queste figure aliene che vivono in questo pianeta e che hanno combattuto contro gli uomini e hanno estinto le donne. Fondamentalmente questa è la trama principale, poi si sviluppa, ma non voglio scendere in Italia e fare spoiler, di Chaos Walking, un film diretto da Doug Liman, che è un regista, direi discreto regista, mestierante, che si è cimentato un po' con tanti generi e anche con la fantascienza, ad esempio Edge of Tomorrow di un bel po' di anni fa con Tom Cruise, ha fatto commedia, ha fatto un po' di tutto. In questo film devo dire che non è tanto lui come regista che non funziona, è tutto il film che non funziona. Poi che altro si ha sempre la sensazione che è un film che non giri bene, che ha dei momenti di pausa incredibili e che fondamentalmente non si capisce bene dove vuole andare a parare. Qual è l'intento del film se non introdurci in questo mondo, ma poi di per sé le azioni, le dinamiche sono abbastanza banali. È un primo capitolo, sì, e quindi serve a settare una serie di elementi, farci conoscere questo mondo, ma deve anche risultare accattivante. E secondo me questo film non è particolarmente accattivante, sia per, ripeto, non tanto la regia, che tutto sommato quella di Doug Liman se la cava bene, è anzitutto le relazioni tra i personaggi, la sceneggiatura e un po' il contesto fantascientifico che secondo me sente la mancanza di un certo budget. È tutto molto abbastanza semplice, lineare, non ha tanto il sapore fantascientifico, ma è molto realistico, quindi in realtà, a parte armi che usano, sembra una cosa reale, concreta, mi verrebbe dire quasi attuale. La fantascienza si ha solo nella rappresentazione di qualche mostro, quella che troviamo durante l'esplorazione da parte di Todd e Viola. Poi per il resto è tutto molto, molto semplice. E poi, secondo me, quello che non funziona, che doveva essere il perno del film, è l'intesa tra Tom Holland e Desiree Ridley. I due non funzionano bene. Diciamo, il tono che viene dato a Todd è iper serio e Tom Holland, secondo me, non riesce a farlo, a interpretare un personaggio così di serio. Mentre, dall'altra parte, Desiree Ridley dovrebbe essere un personaggio anche enigmatico, però l'ho trovato tremendamente piatto e esteticamente. lei indossa una parrucca bionda, secondo me, proprio non le sta. Si vede che è finta, forse perché siamo abituati a averla vista nella saga Star Wars, con i capelli scuri, ma anche nei altri film che ha fatto sempre con i capelli scuri, il biondo, secondo me, non le calza particolarmente. E poi un po' tutto il ritmo del film, che secondo me è un film che non decolla mai, rimane sempre su una linea piatta e che quello che succede, anche la storia passata del pianeta, gli interessa fino a un certo punto. C'è un po' di curiosità, ma una volta finito il film, secondo me rimane ben poco. Devo dire però una cosa, che anche se il film non è, secondo me è riuscito a pieno, era un film da vedere al cinema e non in tv o su un tablet, perché essendo un film di fantascienza, essendo un film che cerca un ampio respiro, perché ci introduce un nuovo mondo, forse averlo visto al cinema, al buio, in pieno silenzio, ascoltando solo quello che si vede, forse il film poteva sortire un risultato migliore o catturare un pochettino più l'attenzione. Almeno questa è la sensazione che ho avuto io. Nel complesso è un film, sì, così, che scorre, ma che non lascia mai il segno. È un film anche a tratti, mi sembra anche un po' pasticciato, quasi non ci fosse un'idea chiara su dove andare a parare, verso quale direzione andare e quindi è un peccato che un film appunto tratto dalla saga di Patrick Ness come primo capitolo non è un granché. Per questa recensione è tutto, come sempre, se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto se avete visto il film. Per questa recensione è tutto, ciao a tutti e alla prossima! Grazie a tutti!